Prenometriamo i 30 minuti di corsa Partita da ora Bene, cominciamo Prenometri oggi consiste 30 minuti di corsa lenta e alla fine in proprio i 30 minuti se per 150 recupero 250 in corsa Bella vietta che corre abbastanza bene l'importante è che non si cura il piano si carica i curori sciolti e mai il pallone mai si cura la terra stanno il pallone e via trato quindi cercare di correre bene trovo in piede l'abbiamo 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 il pallone è caldo e Grazie. 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 Da minuti e fatti. Svegliamo un po'. Grazie. Grazie. Ci vediamo. 5 di prove. Chiaro, più stai composto è meglio è. Non è che posso muovere tutta la testa precisa, no? Non è mal di male. Non che si regola, si può restringere. Via. .. ... ... ... ... e ti ammazza poi contro correnti non arrivi più no no veramente? tu pensa da boa a boa con gli orizzontali a largo 10 minuti contro corrente 2 minuti a favore per 5 inque è come fare ripeto in salita uguale poi rimane raffiatto però è la correnti è bello che non c'è abbastillo le onde però ha linea di più facciamo un po' leggermente più così abbiamo preso intanto voglio fare più dritto voglio che scappa in basso guarda fai caso che quando tocco a terra non far muri si non 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 ma non 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 è meglio eh, oggi a pranzo, massacro adesso, proprio già, mette di camera qua